Oggi puntiamo a una delle missioni DLC, oggi puntiamo la battaglia full moon che c'è a livello 50 e a livello sconosciuto. Proviamo il livello 50, collana di adharahiri, stoicismo e luna d'argento, 20 azioni, sacro, morgana e phoenix, ovviamente phoenix non me l'aspettavo. E dobbiamo arrivare a 60.000 punti, ok, membro del sess, sass, ok, ok, come squadra farei morgana perché c'era scritto, poi farei an e infine farei sumire. E andiamo allora con il livello 50, vuoi iniziare questa battaglia? Certo. Bellissima la musica, e lui è fatto bene, c'ha la spada, è fighissimo. Che cavolo è questo? Ovviamente ti ricorda un po' me. E allora, ribellione! Morgana, ti prego, ti prego, buttalo giù con un critico. Ma ci fosse mai una volta, Morgana Cristo, in cui ce la fai? Super energia! Ci fosse una volta in cui riesci a tirarlo giù Morgana qualcuno con un critico? Kogan! Ok. Vedo che utilizzi anche tu le tue persone. E io sono a fuoco, fantastico. Spettacolo fantasma! Morgana, visto che tanto non è che servi a chissà cosa, salvaci tutti. Miau, ti cura io, Joker! Non è che servisse, però. Vediamo se ha delle debolezze. È debole al fulmine e al maledetto. Ok. Ma credo perché abbia la persona. Aghidoin! Minchia, l'ho quasi devastato con un colpo. Non va bene. Non va bene perché non ci arrivo poi a 25.000 così. Mi sa che questa sfida è più una sfida tecnica, più che di potenza. È una sfida più tecnica che di potenza questa. Aumentiamo la chance di critico a tutti. Bravo. Rialzati. Uh, Hattis ora. Mi spiace. Hai usato l'attacco sbagliato. Spettacolo fantasma! Dobbiamo far arrivare l'attacco a Joker, non agli altri. Guardati. Anche tu, guardati. E anche tu, guardati per favore. Ok. Mille punti vita recuperati. Frecce splendenti! Abbiamo fatto troppo poco. Abbiamo fatto veramente poco. Voglio provare a vedere se riesco ad addormentarlo mentre è in piedi, però. Tanto in mente è nelle ginocchia, volevo dire. Vediamo. Fiala del sonno. Proviamola. Ok, perfetto. Ora sta dormendo. Concentriamo di nuovo Joker. Questa sfida è molto più tecnica di quanto non sembri in realtà. Tu guardiati. Joker sfida è molto più tecnica perché ti punta a non ucciderlo subito con un colpo e non ucciderlo con gli altri più che altro. Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo. Un po' basso come punteggio, ma potevamo fare di meglio. Così si fa, Trickster. Grazie. Ora proviamola a livello sconosciuto. Ecco qua. A che livello sarà? Secondo me, visto quanto c'ha di punteggio, forse un pochino di vita in più ce l'abbiamo. E ha Assorbi Fuoco, Misanga Magico e Luna d'Oro. Niente di che, come l'ultimo, il primo oggetto, ma Assorbi Fuoco è già qualcosa. È una carta che insegneremo a Yusuke, ovviamente. Riuscirei a superare questo nemico? Certo che sì, l'ho già superato una volta. Futaba? Niente. Oh, peccato. Allora. Spettacolo fantasma. Non perdiamo tempo. Morgana, tu. Non fare nulla, per favore. Tu. Super energia a tutti quanti. È vero, con Morgana potevo debilitarlo. Che stupido. Vabbè, alla prossima. Passo di coraggio. Al prossimo turno. Potevo debilitarlo, non ci ho pensato. Ottimo, 1.500 recupera. Fecce splendenti. Critico anche. L'ho ucciso? Ah, ok, no. Meno male. Siamo a 61.000. Staffettiamo a Morgana. E gli facciamo usare debilitazione. Anzi no, facciamogli usare di nuovo la fiala del sonno. Vai. Ah, l'abbiamo mancato. Cazzo. Abbassiamogli le difese. Allora. Tuan, concentra di nuovo Joker. Perfetto. Brava ragazza. Proviamo di nuovo ad addormentarlo. Perfetto. Addormentato, ha recuperato un po' di vita. Di nuovo frecce splendenti. È ancora vivo però, incredibilmente. Ma non ho capito perché. Ah, certo. L'ho capito perché è vivo. È ovvio perché è vivo. Perché c'ha Orfeo che gli fa qua stoicismo per quattro volte. Bravo, bravo ragazzo. Proviamo ad addormentarlo di nuovo. Ottimo. Proviamo di nuovo a concentrare Joker. Abbiamo altri dieci turni. Allora, io proverei a fare così. Proverei ad aspettare che si ricarica. Intanto passo di coraggio. Si ricarichi per almeno due giri di vita. E gli facciamo un altro frecce splendenti. Intanto lo debilitiamo. Così da abbassagli tutto quanto. Morgana, guardiati. Anne, guardiati. Tu, guardiati. Ottimo. Meno male che è ancora Orfeo allora. Dunque. Di nuovo spettacolo fantasma. Tu, guardiati. Tu, guardiati. Cazzo però. Perdiamo quei 150.000 punti ora. Vabbè, non importa. Non è quello che ci serve. Frecce splendenti. 137.000, poco. Questa battaglia è molto più tecnica. È molto, molto più tecnica rispetto all'altra. Arrivare a 360.000 è difficile. È molto difficile. Anche solo arrivare a 150 è difficile. Proviamo a togliere tutti. E combattiamo solo noi. Perché questa battaglia non è difficile a modo suo. Ma è più un fattore di... Devi fare in modo di arrivare a quella somma. Comunque quella spada è fighissima. Fattelo dire. Io avrò anche i coltelli. Ma tu hai una spada, fratello. Debilitiamolo. Non dobbiamo neanche essere troppo potenti e lui troppo debole. Perché se no... Lo uccidiamo. Però finché ha Orfeo... Almeno possiamo sperare che lui sopravvive. Ora. Spettacolo fantasma. Come se la ride Joker. Ottimo. Bravo. Il fatto che lui dorme e recuperi così tanti punti vita è ottimo di per sé. Ora Kaguya Piccaro. Vedi? Guarda quanti punti si fanno così. E ora. Di nuovo frecce splendenti. Va bene. Non importa. È per usare comunque il turno. Attis eh? Mi dispiace. Non c'è debolezza che tenga. Ho coperto ogni mia singola debolezza. Di nuovo. Spettacolo fantasma. Abbiamo 17 turni per farcela. Ottimo. Ricaricati pure. Io intanto... Mi concentro. Mi concentro. TANATOS. Oh TANATOS. Ce l'ho anch'io. Mi dispiace. Attacco ristabilito. Difesa ristabilita. Tutto ristabilito. Spettacolo fantasma. Bravo, bravo, bravo. Ricaricati. Io intanto... Faccio lo stesso. Cadenza neo. Non mi serviva granché. Mi serviva che lui ricaricasse la vita e che io ritornasse da attacco aumentato. Ora. Spettacolo fantasma di nuovo. Bravo, bravo. Ricaricati. Sei debole al nucleare? Non mi importa. Io ti devo colpire con le mie frecce splendenti. addirittura un critico. Ok. 66.000. Sono comunque pochi. Sono comunque pochi. Usiamo un oggetto. Vediamo se riesco ad addormentarlo a questo turno. Ottimo. Così ricarica i punti vita. Mi concentro di nuovo. Bravo, bravo. Ricaricati i punti vita. E ora frecce splendenti. Bravo, bravo che sei ancora in vita. Devi rimanere in vita per me. Questo sì che è un attacco che mi colpisce. Mi dispiace. Schivato. Attacco ristabilito. Perfetto. Mi dispiace, ma devi tornare nel mondo dei sogni ora. Devi ricaricarti un po' di punti vita. Quei 1500 punti vita ti saranno utili, credimi. Io intanto vado di cadenza neo. Per ricaricare le mie statistiche. Bravo, bravo. Continuo a dormire. Intanto mi ribello anche, così aumento il critico. Esplosione nucleare. Un attacco che mi ha colpito. Incredibile. Bravissimo lui. Spettacolo fantasma. Devo sfruttare al meglio tutti quei turni che abbiamo. Abbiamo altri cinque turni. E ora... Frecce splendenti. Frecce splendenti di nuovo. Avrei dovuto addormentarlo. Si concentra, eh? E allora farò lo stesso. Concentrazione. Devo sperare di sfruttare bene quei quattro... Quei tre... Oddio, porta dell'Ade no, però. Quei tre turni che mi sono rimasti. Ok. Non mi ha istachillato e va bene così. Ti debilito. Oh, si è pure caricato. Bravo lui. Chance di critico. Ora ti addormenterai sotto il mio spettacolo fantasma. E devo sperare che questo turno io lo distrugga. Sono concentrato? Sono concentrato. Perfetto. Allora, facciamo così. Cadenza neo. Mi ricarico il 50%. E anche le statistiche. Vabbè. Quei 150 punti extra. Amen. Sono andati così. Frecce splendenti. 102.000. 200... Ah, dannazione. C'eravamo quasi. C'eravamo quasi. Con quei 150 punti... Ah, che nervoso. Con quei 150 punti ce l'avrei fatta. Dannazione. Avevo ragione. Ad aspettarmi grandi cose da te. Grazie. Ma la sfida, cavolo, avesse attaccato invece... Oh, dannazione. Avesse attaccato invece che curarmi. Probabilmente avremmo vinto. Avremmo preso quei 150 punti in più e avremmo preso anche l'ultimo oggetto. Riproviamo. Ok. 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 179.000. Dai, ce la possiamo fare. Ah no, è finita così. Merda. Mmm, di poco. Ci siamo vicini, ci siamo vicini però. Ok. Grazie. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!